Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 306. L'idea su cui andremo a lavorare oggi è la seguente, il dono di Cristo e tutto ciò che cerco oggi. Allora andiamo a vedere cosa ci dice questo esercizio e cosa ci dice il corso oggi. Cosa voglio usare oggi se non la visione di Cristo dal momento che mi può offrire un giorno nella quale vedo un mondo così simile al cielo da riportare a me un antico ricordo. Oggi posso dimenticare il mondo che ho fatto, oggi posso andare oltre tutte le paure ed essere ripristinato all'amore, alla santità e alla pace. Oggi sono redendo e nato di nuovo in un mondo di misericordia, di protezione, di amorevole bontà e la pace di Dio. Questo esercizio continua e si conclude con una piccola preghiera che dice così. È così Padre nostro, ritorniamo a te, ricordando che non ce ne siamo mai andati, ricordando i santi doni che tu ci hai dato. Veniamo in gratitudine e ringraziamento, con le mani vuote, il cuore e la dita aperta. Chiedendo solo ciò che tu dai, non possiamo fare un'offerta sufficiente per tuo figlio, ma nel tuo amore il dono di Cristo è suo. Allora oggi l'idea su cui dobbiamo contemplare è questa, il dono di Cristo e tutto ciò che cerco oggi. Allora eccoci qui, io mi fermo qui, vi aspetto domani con la prossima lezione e vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti!